Sono entrate le ruspe con le motoseghe nella palata del Menasciutto per un taglio di pioppi nella fascia di rispetto del sito di interesse comunitario che comprende la riserva naturale dove per legge nulla può essere modificato e nessun lavoro si può compiere. Sono stati tagliati i pioppi del pioppeto di proprietà di un consorzio privato autorizzato da anni a coltivare piante a scopo commerciale nell'area boschiva mista. Un responsabile del Parco del Serio ha verificato durante le operazioni consentite. Quel che ha causato l'amarezza del Comitato Salviamo il Menasciutto sono gli abbattimenti di alberi a lato del sentiero percorribile solo con autorizzazione. Si vedono piante sradicate, strappate e gettate a terra, non pioppi ma robigne e altri alberi del sito di interesse europeo. I tagli a legna assicurano che il danno si è verificato prima del loro arrivo. La principale preoccupazione del Comitato dipende però dalla corsa contro il tempo che da quel che risulta vede impegnata la società bresciana Imbre intenzionata a costruire una centralina mini idroelettrica all'interno della riserva naturale per sfruttare il salto dell'acqua e la corrente della derivazione del Serio. Le ultime norme regionali sono però più restrittive che in passato. Nelle aree naturalistiche infatti si potranno realizzare centraline di potenza limitata a soli 150 kW mentre il progetto della Imbre, proposto dallo stesso Parco del Serio per la riqualificazione della riserva, prevede una potenza massima di 1.200 e 480 d'esercizio. Se le indicazioni regionali saranno superate, la centralina una volta attivata entro l'anno otterrebbe contributi pubblici rilevanti che diminuirebbero invece in caso di inizio attività negli anni successivi. Sono in gioco centinaia di migliaia di euro ogni anno. Così, pochi giorni prima della scadenza di fine 2014, sono arrivate le richieste di autorizzazione paesaggistica e rinnovo dell'autorizzazione di derivazione d'acqua dal Serio. In caso di risposta positiva della rinnovata amministrazione provinciale, le ruspe entrerebbero stavolta all'interno della riserva, dove si aprirebbe un cantiere edile del tutto inedito. Eventualità che Romano Sacchi e il Comitato Salviamo il Menasciutto vogliono scongiurare in ogni modo, pronti anche ai ricorsi al TAR.